Gigi De Palo, 42 anni, nato a Roma, marito di Anna Chiara, papà di Giovanni, Therese, Maddalena Gabriele e Giorgio Maria, presidente del forum delle associazioni familiari, sei stato anche promotore di diverse iniziative legate alla famiglia di cui poi parleremo, giornalista, autore di diversi libri, tu ti do del tu perché sei giovanissimo, come ti presenteresti? Come un marito e un padre che sentono l'urgenza di una missione che è quella appunto della famiglia perché in questo paese o si riparte alla famiglia oppure molto probabilmente non c'è futuro. Sei stato assessore alla famiglia per il Comune di Roma dal 2011 al 2013, cercando di dare in quegli anni il tuo contributo appunto di iniziative a sostegno della famiglia, pensiamo a Progetto Quotiente Roma, un investimento che ha permesso a tantissime famiglie di non pagare la tassa sui rifiuti e l'Imu sulla prima casa. Poi ancora un call center dedicato alle famiglie, una rete dedicata alle famiglie. Sei stato promotore dell'iniziativa Io sto con i passeggini, il flash mob organizzato in piazza del Campidoglio a Roma con tantissimi passeggini per gridare no al caro degli esili nido, avete riempito la piazza con tantissimi passeggini vuoti. Da dove nasce questa tua passione per la famiglia? Non lo so, nel senso che una famiglia pure abbastanza così particolare, mio papà è non udente, mia mamma diciamo non prettamente cattolica, eppure di fatto io ho preso sin da bambino, andavo a messa, ero io che dice ai miei genitori andiamo a messa. Poi sul tema della famiglia io non pensavo nemmeno di sposarmi fondamentalmente, sono un giornalista, quindi giravo, volevo fare il giornalista che si occupava di termini missioni, lavoravo infatti per Popoli e Missioni che era una gioia, però ecco... Sei stato anche in diverse missioni, no? In diverse missioni, in Africa. Poi ho conosciuto Anna Chiara, mia moglie, e ho capito che la mia vocazione non era tanto il matrimonio quanto proprio Anna Chiara, e quindi da lì è stata così un'escalation e ho capito, ho percepito che fondamentalmente era molto bello e che questa bellezza andava raccontata un po' a tutti e che questa bellezza purtroppo in questo paese viene messa in serie difficoltà perché si dà per scontata e quindi non solo non sei aiutato a fare famiglia, ma viene anche ostacolato. E quindi da lì poi le Agli di Roma, con l'impegno come presidente in un periodo in cui mi occupavo appunto di famiglie, di giovani, il tema dell'assessore alla famiglia, il presidente del Forum del Lazio, quindi diciamo che è stato un po' un cursus honorum, come dicono quelli colti, che mi ha portato a occuparmi della famiglia, a crederci sempre di più, a innamorarmi di questo che non è solamente un tema, ma proprio una missione, come dicevo prima. Prima giustamente raccontavi il tuo incontro con Anna Chiara, tua moglie, quindi prima l'innamoramento con Anna Chiara, poi appunto l'innamoramento della famiglia. A proposito di Anna Chiara, con lei hai scritto il tuo ultimo libro, che appunto è La famiglia e altri meravigliosi disastri. Allora l'obiezione potrebbe essere la famiglia Mulino Bianco non esiste, non è così facile, non è tutto rose e fiori. Tu come rispondi e come secondo te la famiglia deve essere raccontata, che poi è come la racconti anche nel tuo libro? Io credo che noi dobbiamo riuscire a raccontare la famiglia per quello che è, ovvero tenendo presente le sue complicazioni, tenendo presente il fatto che è faticoso, tenendo presente che ci sono fragilità, tenendo presente che si litiga, che ci si fa male quando si litiga, che è difficile educare i figli, che i figli certe volte hanno retta, certe volte no. Tutto questo fa parte del pacchetto famiglia. Troppe volte noi rientriamo e ne parliamo come o da una parte in maniera negativa, come un peso da sopportare per tutta la vita, come qualcosa di brutto, di asfittico, come un'angoscia, dall'altra parte con un buonismo che fa gli stessi danni che fai raccontarla come solamente un'angoscia, con questo sorriso perenne, si va tutto bene. No, la famiglia è complicata, è proprio perché è complicata che è bella, così come quando tu sali in montagna, per salire in montagna è complicato salire in montagna, ma poi il gioco vale la candela, perché quando vedi il panorama, anche se a metà della salita ti viene sempre una mezza crisi di panico dicendo, vabbè io discendo, non vale la pena farlo, la stessa cosa capita quotidianamente nella famiglia, però poi tu ti rendi conto che il gioco vale la candela. Ecco, noi dobbiamo raccontare questo, che è complicato, è difficile, ma proprio per questo è molto bello, perché le cose belle sono comunque difficili. E qual è il fascino, secondo te, della famiglia che si è perso? Se si è perso un fascino della famiglia, non va più di moda la famiglia? Allora, nel nostro libro un pochino lo raccontiamo, diciamo ci vediamo a casa proprio per cercare di mostrare il fatto che tutti quanti alla fine tornano a casa, tutti quanti alla fine nascono da una famiglia. Io credo che dobbiamo raccontare, faccio un'altra citazione, ma non è affatto colta, non so se vi ricordate il film Ratatouille, alla fine, tutti facilmente perché avendo 5 figli. Sì, con tanti bambini è facilissimo, però c'è il critico che sta lì e deve stroncare il ristorante. È un po' come il mondo che in un certo senso è molto prevenuto nei confronti della famiglia, lo stesso discorso è il critico. Cosa succede? Che gli viene portato un piatto e quel piatto, quando lui lo assaggia, non è semplicemente un piatto buono, è un piatto che gli riporta alla mente quando lui era bambino, quando cadeva dalla bicicletta, quando la mamma gli faceva una carezza e gli asciugava le lacrime. Allora cosa dobbiamo fare noi? In un mondo prevenuto, perché il mondo un po' è prevenuto, perché la famiglia fa risparmiare e quindi comunque in un mondo individualista c'è comunque chi rema contro la famiglia dal punto di vista economico, se vogliamo, noi dobbiamo cercare di toccare quelle corde che hanno toccato tutti noi, cioè cercare di fare una narrazione che va a toccare quel desiderio di famiglia ancestrale che abbiamo tutti noi, quel lettone dentro il quale siamo stati tutti noi con i nostri genitori. Solo questo ricordo ci fa togliere quelle sovrastrutture, quella prevenzione negativa nei confronti della famiglia e ci fa parlare seriamente senza dinamiche ideologiche. Però è una sfida anche nostra per cercare di raccontarla in questo modo. Secondo gli ultimi dati Istat, siamo di fronte ad un calo delle nascite, gli ultimi dati Istat ci dicono anche che sono in calo i matrimoni e aumentano i divorzi. Tra i 25 e i 34 anni non sono ancora sposati l'81% degli uomini e il 65% delle donne. Mi viene da pensare che oggi i veri rivoluzionari siete voi, siete voi gli alternativi. Sicuramente c'è un eroismo, c'è una grande sfida. È anche vero che oggi in Italia chi si sposa è uno scemo perché non viene messo non solo nelle condizioni di farlo, ma addirittura come dicevo prima ti mettono anche dei paletti. Conviene oggi fare delle separazioni fittizie a livello economico per vivere più dignitosamente piuttosto che stare insieme. Questo è un grande problema. D'altra parte però noi non possiamo tralasciare il fatto che se i giovani si sposano di meno, se si fanno meno figli, oltre ad esserci un problema oggettivo dal punto di vista sociale e economico, c'è anche un problema culturale che ci deve far riflettere. Purtroppo noi anche qua il mondo cattolico si divide in quelli che dicono che è solo antropologico-culturale o quelli che dicono che è solo sociale. Come sempre l'uno contagia l'altro, allora dobbiamo fare un salto di qualità, togliere la famiglia da una dinamica ideologica perché non porta da nessuna parte, ma soprattutto perché ci impedisce di ragionare seriamente sulle vere cause, perché pensiamo di avere delle risposte e invece non ci mettiamo in crisi e non facciamo un po' di autocritica e cercare di ragionare come raccontarla, come spiegarla. Perché io dico sempre, io posso ripetere a mio figlio tutta la vita che la famiglia è la cellula fondamentale della società fondata sul matrimonio, ma mio figlio non si sposerà perché gli dico questa cosa. Mio figlio si sposerà se vedrà me che nonostante le difficoltà, nonostante i piatti che vengono tirati a casa, amo mia moglie e se mia moglie ama me, mia figlia deve desiderare di sposarsi perché vede il mio amore nei confronti di mia moglie e deve avere invidia per questo. E' la testimonianza che fa la differenza, no? E' la testimonianza, io mi sono sposato non perché mi hanno detto in parrocchio, ma perché mi hanno detto i miei genitori, ma per cui mi hanno detto famiglia felice, ho detto io voglio fare quello. E perché ti sei innamorato? Quello diciamo lo mettevo come base. La forza dell'amore poi muove tutto. Però tutti hanno questa, tutti si innamorano se vuoi. Il salto del dire per sempre ha a che fare con qualcosa che hai visto e dici io lo voglio fare perché ho visto che è bello. Ecco, se noi torniamo a fare questo ragionamento, in più mi permetto di dire, andiamo a togliere tutte le difficoltà che oggi mettono in crisi i giovani, perché quando non è una casa, quando non è un lavoro o c'è lavori a tempo determinato di tanto in tanto, io ricevo centinaia di lettere in tal senso, hai voglia a dire, no è una questione culturale, perché io ricevo lettere di gente che viene dall'Associazione di Movimenti Cattolici che ti dice, io voglio sposarmi, io sono sei anni che sono fidanzato, voglio sposarmi ma non ho un po' l'opportunità di farlo. Allora spezziamo anche una lancia in favore di questi giovani perché è vero che tanti anni fa ci si sposavano stante difficoltà. Esatto, ti stavo proprio per chiedere questo, nel senso che giustissimo quello che dici, il sostegno, l'aiuto alle famiglie, anche qui l'obiezione però potrebbe essere in periodi in cui certamente da un punto di vista economico non si viveva nell'agio, c'erano tantissime famiglie numerose. Allora forse oggi al netto dei problemi economici, della crisi, del mancato magari sostegno, forse manca anche una certa dose di coraggio, anche un pizzico di incoscienza se vogliamo. Io sto dalla parte dei giovani, nel senso che dico che alla luce dei feedback che ho, delle mail che ricevo, io vedo persone che hanno il desiderio di fare questo passo ma che oggettivamente se i miei genitori avessero avuto così poche prospettive non si sarebbero sposati nemmeno loro. Perché hai voglia a dire, io l'ho visto sulla mia pelle e quindi lo posso dire, c'è la provvidenza, verissimo, ma noi dobbiamo occuparci anche di tutte quelle persone che magari non credono, non hanno mai sperimentato la provvidenza. Allora queste persone non possiamo fare un ragionamento, fallo, impegnati, ma deve esserci anche, bisogna togliere anche dei meccanismi che ti inducono a non farlo. Ripeto, io ho vissuto otto vite dei miei genitori, i miei genitori avevano un lavoro, innanzitutto una casa di proprietà, un lavoro a tempo indeterminato e lavoravano dalle otto alle quattordici. Io tutto questo non l'ho mai avuto, stiamo pagando il mutuo, faccio esempio su di me proprio per spezzare una lancia di confronto dei giovani. Non ho mai avuto un lavoro a tempo indeterminato. Hai dovuto anche fare più lavori nello stesso tempo, no? Ma questa è una cosa comune a tutte le persone della mia generazione e a maggior ragione a quelle che vengono addirittura dopo, perché purtroppo sta peggiorando la situazione. I giovani per la prima volta sono più poveri, solitamente c'è un crescendo di ricchezza, per la prima volta i giovani sono più poveri delle generazioni precedenti. Non banalizzerei con non hanno voglia. Ci sono una serie di tematiche, poi c'è anche una questione di mentalità, altrimenti non ti direi, c'è anche un racconto che va fatto, però dico anche che oggi come oggi non ci sono le premesse che c'erano un po' di tempo fa, perché è vero che si veniva dopo la guerra, ma c'erano prospettive di crescita e soprattutto c'era una fiducia nei confronti del futuro. Oggi la mentalità ti porta ad avere sfiducia. Partiamo dalla Costituzione, tu prima hai citato un passaggio. Allora voglio leggere due articoli e li commentiamo insieme. Articolo 29 della nostra Costituzione. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Concentriamoci su questo, la famiglia come società naturale. Se non c'è più la famiglia che cosa succede? Si sfalda tutto, cosa che sta accadendo. È come se noi vivessimo una situazione, prima citavamo il tema della natalità, c'è un terremoto in atto. Solamente che noi non facciamo nulla perché non crollano i palazzi. Ma tu sai che quei palazzi che oggi non crollano tra 30 anni staranno già per terra e saranno polvere. Questo è quello che sta capitando, perché non formandosi più famiglie inevitabilmente non nascono più figli. Ma soprattutto noi rinunciamo, parlo in termini, poi possiamo parlare in termini cattolici, posso dire altre 100 miliardi di cose, ma in termini più... Abbiamo solo 24 minuti. Appunto. Dico, cosa sta succedendo? Che il welfare gratuito che noi abbiamo automaticamente, l'ammortizzatore sociale, che è ancora il motore di questo paese, perché se non ci fosse questo sarebbe un costi su costi su costi, lo stiamo perdendo, si sta sfaldando, si sta sgretolando. Il fatto che non nascono più figli, noi siamo tutti collegati gli uni gli altri, le generazioni sono collegate. La dottrina sociale della Chiesa, nel tema della solidarietà, parla di solidarietà internazionale, ma soprattutto di quella intergenerazionale. Cosa comporta? Comporta che il welfare, così come è strutturato oggi, non ci sarà più. Nel 2035 questo paese sarà un ospizio, nel senso che ci saranno molti, molti più anziani rispetto a giovani e la sanità, se continua in questo modo, aumentando gli anziani e quindi giustamente aumentando le persone che vanno in pensione, i giovani che nascono non potranno lavorare tanto da permettere un'assistenza sanitaria gratuita. Ecco, questo è il terremoto che è in atto. La famiglia è quella che per il momento ha supplito a tutto questo terremoto, cioè ha fatto da argine. Togli la famiglia, come se togli gli alberi quando c'è, cade giù tutta, è una frana. Articolo 31 della Costituzione. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. È vero? No. Non solo non è vero, ma è anche il contrario. Ma questo anche a livello culturale. Quando noi giriamo per strada, abbiamo fatto cinque figli, ripeto, non perché ce l'ha detto il dottore. Perché? Perché era bello. Perché abbiamo fatto un figlio e abbiamo detto mazza, bello. Perché non lo fai il secondo? Certo che lo fai. Però pure il terzo, poi il quarto, poi il quinto, la ciliegina sulla torta, Giorgio e Maria con la sindrome di Down, felicissimi. Però in Italia tu vieni messo nelle condizioni di andare all'estero. Cioè non solo le famiglie numerose non sono tutelate minimamente, ma addirittura vieni preso in giro. Addirittura, come dicevo, vieni ostacolato. Tant'è ci dicono, ma non c'hai del televisore, no, le classiche battute che fanno. Mia moglie ha risposto, so che teleradio padre Pio è anche su Sky, lei dice sì, ci abbiamo Sky, possiamo mettere pausa. È l'unica, ma è complicato. È complicato perché questa mentalità poi te la ritrovi dovunque, te la ritrovi nei negozi, te la ritrovi come se queste persone, questi bambini stessero togliendo l'aria a qualcuno. Mentre invece non capiscono che quei bambini sono quelli che assicureranno il futuro alle stesse persone che oggi ti prendono in giro e ti criticano. Siamo al paradosso, cioè dovete quasi giustificarvi, no? È folle, è folle perché in un paese a nascita zero, ripeto, il fatto di mettere al mondo dei figli per un discorso prettamente sociale è solo che è un vantaggio. Se poi ci aggiungiamo il fatto che chi mette al mondo un figlio, io dico, ha gli occhi della tigre, perché chi mette al mondo un figlio, anche la differenziata, non la fa tanto per fare. La fa perché ha un atto d'amore, la fa compassione. Allora, questo è il valore aggiunto di un paese con famiglia e di un paese con dei figli. Cioè il fatto che non siamo i curatori fallimentari dell'Italia, ma abbiamo ancora l'energia e il desiderio di fare cose grandi per questo paese. A un certo punto c'è stata quasi una battaglia, no? Famiglie tradizionali versus famiglie, nuove famiglie, manifestazioni in difesa della famiglia. Si è sentita addirittura la necessità di dover difendere il diritto alla famiglia. Posto che io dico che non mi piacciono gli aggettivi, perché ghettizzano da una parte e dall'altra e mettono la famiglia, che è l'occasione che noi abbiamo per parlare con 59 milioni di italiani che la pensano come noi in un ghetto. Posto che io sono convinto che la famiglia è un uomo, una donna e dei bambini, quindi questo lo do per scontato. Credo che anche qui dobbiamo fare un grande sforzo, perché c'è tanta gente che la pensa come noi, la maggior parte del paese, ma dobbiamo tornare a parlare un linguaggio che possa essere comprensibile. Cioè la famiglia non è cattolica, la famiglia preesiste al cattolicesimo, viva Dio. Poi la Chiesa Cattolica gli ha dato una bellezza e una motivazione, una ricchezza non solo in terminologica, ma anche in termini di concretizzazione, ma anche la resa e il capolavoro che è. Però comunque la famiglia preesiste alla Chiesa Cattolica ed è questa la sua forza, che noi non dobbiamo difendere nulla perché siamo cattolici. Noi perché siamo cattolici abbiamo mille argomentazioni in più, ma noi dobbiamo difendere la famiglia, tutti, perché è la cellula fondamentale della società che ha dato il futuro non solo a questo paese, ma sono 5 mila anni a questa parte che è l'organizzazione migliore che abbiamo trovato. Per questo dobbiamo togliere da una dinamica ideologica e cercare di parlarne con tutti, perché tutti la pensano come noi. Hai raccontato all'inizio che eri tu a dire ai tuoi genitori andiamo a messa. Sei cresciuto in parrocchia, ti sei formato possiamo dire in parrocchia, questo che cosa ha determinato nella costruzione della tua personalità, del tuo atteggiamento poi nei confronti anche del sociale? Tutto, nel senso che la parrocchia è il luogo dove esci dalla famiglia e trovi altre famiglie, è il luogo dove si formano le famiglie di famiglie, soprattutto è il luogo dove ti innamori della persona di Gesù Cristo che ha poi il senso, perché tutto quello che viene fatto, il girare l'Italia con il forum, lo scrivere il libro e il girare l'Italia parlando di famiglia in questo modo, sotto sotto se tu scavi semplicemente nasce dal fatto che io mi sento debitore di qualcuno che mi ha amato indipendentemente dai miei meriti e il modo attraverso il quale io cerco di ripagare questo debito, perché io non ho fatto nulla per conoscere mia moglie a una giornata mondiale della gioventù e c'è tanta gente che avrebbe desiderato conoscere una moglie, un marito, una GMG e vivere la vita che sto vivendo io, è il modo attraverso il quale io cerco di ripagare, sapendo che non potrò mai farlo, l'amore che ho ricevuto da Gesù Cristo. Per questo i cattolici devono capire che anche i temi dell'associazionismo non è un hobby, è una missione, non è vabbè c'è un po' di tempo, lo faccio, è il modo attraverso il quale tu ti giochi tutta la vita, ecco io questa cosa l'ho appresa a nove anni facendo la prima comunione, è un innamoramento che è ancora duro e spero che il Signore mi dia di viverlo fino alla fine dei miei giorni, tenendo presente poi ci danno alti e bassi come tutti quanti. Indossi i sandali, siamo in inverno, perché fa freddo tra l'altro, fa freddissimo, Giovanni Paolo II nel 2002 mandò una delegazione di giovani a Ramalla a portare la lampada della pace che lui aveva acceso ad Assisi e poi nel 2002 sempre ad Assisi a Yasser Rafat e Simon Peres. Quell'occasione con un gruppo di ragazzi così sembrava che c'erano prospettive di pace per la Terra Santa, per Gerusalemme, io ho detto guarda me la gioco, faccio un fioretto, fino a quando non c'è la pace a Gerusalemme io tengo i sandali, ecco, di fatto sono 17 anni ormai, il 20 marzo saranno 17 anni che ho i sandali. Li porti sempre. Quando gioco a pallone li tolgo. Hai detto che le parole più concrete che tu conosci sono fede e amore. E' così, nel senso che, come dicevo prima, la fede è un incontro concreto, non è, ti racconto una cosa, ma io se prendo mio figlio, cosa che già faccio, e gli dico guarda Gesù così, Gesù su, Gesù giù, lui comunque dovrà sperimentare nella sua vita l'incontro con Gesù Cristo, non c'è niente a fare, è quello che abbiamo fatto tutti quanti noi, possiamo fare una testa tanta ed è giusto che la facciamo, perché chi ha una passione su queste cose è bene che la faccia, chi l'ha visto deve raccontarlo. La stessa cosa è l'amore, l'amore non è un sentimento, l'amore è un fatto. Quando Giorgio Maria si sveglia di notte e piange, non è sì, adesso ti amo, ti voglio bene, glielo dico, no, ti alzi dal letto e lo prendi e lo porti alla mamma che lo allatta. Ecco, noi dobbiamo entrare in un discorso cercando di raccontare il fatto che Gesù Cristo si è incarnato e non c'è niente di più concreto dell'incarnazione, così come non c'è niente di più concreto di uno che muore sulla croce, non sta nell'iperuranio e detta delle regole. Mia moglie fa un esempio molto bello, se ho tempo di dirlo, lei dice noi abbiamo raccontato il matrimonio come un elenco di regole, lei dice se noi mettessimo qua davanti la giusta quantità di acqua, la giusta quantità di farina, la giusta quantità di lievito, non si sentirebbe il profumo della pagnotta. Mentre noi mettessimo qua una pagnotta, a casa un po' meno, ma io e te sentiremmo il profumo della pagnotta. Ecco, noi dobbiamo cercare di raccontare questo profumo della pagnotta, far sentire un profumo del cristianesimo, della famiglia, di tutto quello che vuoi. Tuo figlio è innamorato di padre Pio. Gabriele. Gabriele. Allora, grazie Gigi De Palo per aver risposto alle nostre domande. Noi salutiamo Gabriele, ma salutiamo tutti, salutiamo Giovanni, Teresa, Maddalena, Giorgio Maria e Anna Chiara. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi.